Ciao a tutti ragazzi, e oggi, cioè benvenuti in questo nuovo video, e oggi farò vedere quante belle cose ho comprato ieri, un saldo, allora per iniziare, questa maglietta è molto carina, una scritta New York Poi, compro questa tuta, però a dire la verità ha fatto soltanto la testa, scura Sta qui Che è davvero molto carina, tipo con i bruchi, però l'ha messa con una maglietta sotto E anche un bel colore Comunque, ho comprato questa camicetta, e un'altra però di nostro colore Poi questo giacchettino non viene molto carina, ma lo consiglio Allora, è molto molto carina Sta un tipo di gonna, cioè allora, non è una gonna, ma è una gonna pantaloncina tipo E' veramente molto carina, e con i quadretti che si è nero, se hai capito Questo è il giacchettino Chiettino, ti potremmo vedere qui Molto carino Questo magliettino bianco Non so se si vede Questo magliettino bianco tipo così E questo magliettino bianco, tipo così E questo magliettino bianco, tipo così E questo bellissimo Quindi anche così Mi avendo molto carino Mi piace anche perché è caldo, quindi è caldo Beh, allora Vabbè ve l'ho fatto vedere E spero vi sia piaciuto questo nuovo video Se è così Mi raccomando mettete un bel pollicino in su Iscrivetevi E Allora vi mando un grandissimo bacione E Ci vediamo al prossimo video Bye